Caltanissetta, Corso Umberto, c'era una volta. Oggi la grande piazza, memorie e tracce di un passato che ha caratterizzato la storia di questa città. Un viaggio nel tempo che fu, nel cuore del centro urbano, di cui oggi restano testimonianze da custodire e tramandare. Al tempo in cui ero ragazzo, ero giovane, quindi parlo degli anni 50-60, Corso Umberto era un bel corso, era ancora più bello di Corso Vittorio Emanuele, perché intanto, come sappiamo, la conformazione di Corso Umberto è più ampia di Corso Vittorio Emanuele, è più adatto al passeggio, e poi era un corso arricchito da tanti bellissimi edifici, qualcuno non c'è più, l'antico edificio della Banca d'Italia, che si intonava perfettamente proprio con gli altri edifici del Corso, col Palazzo Bordonaro, col Palazzo del Banco di Sicilia, col Palazzo del Municipio, quindi quella parte era veramente artistica da un punto di vista architettonico assai interessante di Caltanissetta, anche molto armoniosa. E poi era un corso pieno di gente, vitalissimo. Insomma, Caltanissetta sembrava una città sempre in festa. Lo notò, per esempio, lo scrittore Piovene, quando negli anni 50 scrisse il suo viaggio in Italia, e parlo di Caltanissetta affollata, formicolante. In sostanza era il luogo di incontro di tante persone. E poi, come anche Consolo l'ha notato, questo scrittore Consolo, c'erano vari turni. C'era la mattina presto, c'erano coloro dei quali bivaccavano in attesa di avere un lavoro, di trovare un lavoro. Poi, dopo le sette e mezzo, le otto, c'erano i professionisti, i professori che si recavano al lavoro, quindi andavano al bar. Dopo c'erano i pensionati o gli schifarati. Ci sono stati sempre disoccupati, oppure gente libera da lavori, da impegni di lavoro. La mattina che si riuniva in Corso Umberto, cioè era il luogo di incontro per eccellenza. E i punti di riferimento erano il caffè romano. Ne vediamo nel romano, era la frase che circolava quando ci si dava un appuntamento, oppure presso qualche altro bar. Ricordo che in Corso Umberto c'erano i bar più prestigiosi della città. Oltre al romano c'era il bar Ceraci, che non c'è più. Adesso ci sono gli eredi che hanno il torronificio, però non è più, viene il evento in Corso Umberto. C'era il bar Bella, che era un altro bar importante all'Ancolo, accanto al cappellaio Amico. E poi c'era il bar Cortese, un altro prestigiosissimo bar che si trovava accanto alla cattedrale. fu preso poi questo posto dal bar Zambuto, il quale non c'è più neppure adesso. Di fronte, ma eravamo sempre in Corso Umberto, però dalla parte che va, diciamo, scende verso la rotonda, c'era il bar Bruno, un altro bar, un'altra pasticceria importantissima in realtà è stata perché erano queste le pasticcerie più importanti.